ragazzi prima di tutto per quanto riguarda sulla roma perché noi abbiamo una sfida molto importante perché speriamo che i 15 punti erano riconfermati perché l'alimentus ha fatto un comunicato e io questo lo so contro la sentenza dei meno 15 punti di penalizzazione e secondo me quindi sono stati ingiustificabili poi ha parlato anche Luciano Mongi sono fatto delle presupparenze e quindi quello che ci aveva mandato ingiustificabili è stato l'inter però oltre a quello che ho commentato e non solo sulle intercettazioni telefoniche però quello è stato il motivo in cui che l'alimentus ha fatto ricorso e basta e io questo mi soffermo perché è così il mio pensiero sono io e così mi sono espresso anche sulla vicenda nel fuoricampo e quindi questo è tutto però il motivo è un altro che secondo me dovete fare un'altra cosa importante perché noi sfidiamo la Roma e va bene però quello che ha fatto Morigno è inaccettabile cioè ma ancora contro la Juve ti metti che cazzo ti mi ha fatto a te morì? mi sape c'è una cosa schifosa hai fatto ieri nella figura di merda che hai fatto tu eh? non dovevi fare mio caro prima cosa e seconda cosa iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto perché arrivano certe notizie brutte ma anche negative ad esempio contro di noi e questo fatto qua non mi piace ok? e lasciate anche un like a questo video e commentate qua sotto perché quel è un bagliaggio secondo me io non dico amori ma io non dico a quella faccia di cazzo c'è noi che ti mi ha fatto a te caro Sosè che ti mi ha fatto? tu hai rotto i marroni e tu vogliono dire a quello a quello che non gli ha apporto l'uomo che lui è tifo sono dei movimenti vai a Torino vai ma chi? c'è io non so come non devo approfondire ma questo bagliaccio clown è di merdante c'è non ho più parole per questo humor cioè io ti stimo come humor però non come allenatore perché tu non sei allenato in Roma che cazzo vuol dire? cioè questo è il tuo atteggiamento? no io non attegno io non attegno non lo accetto questo fatto qua perché tu sei non allenatore della Roma tu non alleni la squadra tu non puoi allenare la Roma giocando con il tripletto da merdante c'è c'è l'Inter se no se no se no te non siamo fuori dopo nella Dinamo Kiev e poi non fuori gioco e mi dito alla fase ai gironi poi sei passato agli ottavi contro i Chelsea poi contro il Barcellona e poi in finale anzi in semifinale con la Barcellona che è andata in ritorno e poi ha fatto una finale con Bayern quello è fuori di mano e perché non l'ha visto quindi? eh? perché era il cagione di rigore per il Bayern casi cazzo non si perché non l'hai detto dopo del post-champions eh? quindi che vuoi? che cavolo vuoi da noi? non ci aggiungiamo un cazzo va bene? cioè fai queste sceneggiate perché questo è fatto bene ritirati ritirati nel cazzo perché tu sei il primo mio caro Murillo tu sei il primo a dire quelle cose lì al quarto uomo poi ti sei messo dentro l'arbitro perché mi trovano cioè sempre la Juve la Juve la Juve la Juve la Juve la Juve hai rotto il cazzo caro José hai rotto veramente i marroni questo è quello che la devi pagare dopo l'Inter per la Juve quindi smettia perché se noi andiamo lì all'Olimpico per affrontarti è da vincere quella partita i venti quindi questo devi fare se siete onesti perché l'arbitro quando lui non è un giorno le partite e tu non ha fatto nemmeno complimenti alla cremonese ma come stai come stai lì cioè io capisco la rabbia ma così no caro José e dai un po' di rispetto e sportività il rispetto ci vuole per la cremonese un po' di rispetto e i tifassini della Roma hanno fatto bene a cantare quelle cose a te perché tu sei il primo imbecillo sì noi non centriamo nulla perché tu sei il problema della squadra tu e solo tu sei antipatico buffone come diceva un bar palermo perché arangione non dice non dico io cioè tutti ma proprio tutti lo sanno questo fatto qua perché tu hai iniziato a dire quelle cose e non mi piace non mi piace il tuo comportamento contro l'uomo che fai schifo sei uno schifo di allenatore e sei uno schifo di persona ma come ti comporti come ti sei permesso ma va a tenere ma va a tenere quella squadra che non ti muoiono non ti muoiono da nessuna parte se vedi all'inter per me è e se qui e se qui quel toi ti accett per merito suo che era un ex presidente dell'inter e ora stai ben zang ancora ti permetti a tornare all'inter tu devi pensare solo alla tua squadra che hai vinto con l'inter io sono un tifo sono dell'inter ma all'interno una roma e ora che vuoi sembra da io qua sempre contro la roma ti metti e che schifo fai sei uno schifo quindi questo è il tuo problema caro mio devono cercare l'audio perché non lo sanno devono cercare l'audio dell'arbitro che tu hai detto quelle cose ti devi vergognare ok quindi questo è quello che devi fare stai zitto taci più di quella boccaccia di merda che hai va bene tu non devi allenare nessuna squadra tu non sei capace di allenare la roma non hai quella sensibilità che tu vai a parlare contro un avventus che vince da dieci anni e tu ti permetti ancora di parlare contro un avventus eh non ti vergogni sei vergognoso caro ovviamente hai rotto quindi questo è il tuo problema però siamo così apri partita di roma fiume quindi ho commentato di questo fatto qua però va bene così lo voglio prolungare e sempre fino alla fine ma io ti dico solo che tu non hai indiritto di capestare la storia dell'avventus che sei ridicolo sei ridicolo sei caro Giuse non ti permettere più non ti permettere per 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 Grazie a tutti.